Il Taranto resta in silenzio, nessuna conferenza stampa di vigilia in vista del delicato impegno contro il Crotone, sequel di quanto già accaduto ad Avellino quando, dopo il pesante 4-0 incassato, la società ha deciso di non far rilasciare dichiarazioni ai propri tesserati. È un momento indubbiamente difficile per il Rosso-Blu, ripiombati in zona play-out, e che devono fare i conti anche con le ormai consuete defezioni. Due giornate di squalifica per Antonio Romano, una in quanto diffidato, domenica ha rimediato il quinto giallo stagionale, l'altra per via del Rosso-Diretto ricevuto per proteste. Nemmeno Capuano potrà sedere in panchina, un turno di stop per lui e 500 euro di ammenda. Nella sfida contro i Pitagorici non sono previste particolari novità sul fronte degli interpreti. Potrebbe toccare a Mastro Monaco, ricoprire il ruolo di Mezzala vista l'assenza di Antonio Romano, ma ciò soltanto se Formiconi venisse impiegato sulla destra. Domenica ad Avellino è rimasto per gli interi 90 minuti in panchina. Scalpi Taciapi Romano che necessita di minutaggio per dimostrare di poter essere utile alla causa. Pericolo squalifica infine per Guida e Antonini. Entrambi sono diffidati e in caso di ammunizione salterebbero la partita di Pescara del prossimo lunedì.